Una rapida ma quanto violenta mareggiata ha riportato nelle ore scorse il problema dell'erosione qui sul lungomare di Alba Adriatica creando diversi problemi in alcune zone della città come soprattutto qui alla Bambinopoli e anche nei locali e nei vicini stabilimenti balneari. Il mare in Burras che è tornato infatti ad inondare la Bambinopoli che è una zona sempre molto a rischio e nei primi 700 metri a sud del Vibrato infatti la perturbazione nello scorso settimana però non ha prodotto danni di rilievo piuttosto sono tornate a galla queste vecchie e attuali problematiche della riviera e anche gli stabilimenti balneari più a ridosso della zona nord sono tornati a soffrire perché l'acqua infatti in alcuni punti è arrivata praticamente sulla passeggiata e quasi sul lungomare e le protezioni solo in parte hanno potuto risolvere il problema. Quello che appunto ci resta evidente e merita di essere monitorato è cercare di contenere questa situazione in modo che poi non torni a verificarsi. Questo è uno dei problemi con i quali convive appunto la riviera nord ma anche il vicino litorale marchigiano la zona di San Benedetto e Portorascoli soffre di queste problematiche e ad Alba Adriatica poi i cittadini non vedono in buon occhio gli imminenti lavori anti-erosioni programmati poco più a nord a Villa Rosa che prevedono la realizzazione di alcuni pennelli e queste opere secondo appunto l'amministrazione servirebbero a acuire il problema rosivo a sud proprio in questa zona. Quindi si tratta di problemi che devono essere risolti nel più breve tempo possibile anche per poi evitare i problemi soprattutto quando partirà la stagione turistica magari con la Pasqua e poi nella stagione estiva 2016.